Eccoci pronti per la prima puntata di Una Cassetta per te. Vediamo insieme il mio primo ospite. Sento della musica, allora mi sa che veramente il signor Peppino lo troviamo dentro qua. Permesso? Signor Peppino, signor Peppino Trimpoli, sono Vittoria, posso disturbarla due secondi? Posso? Io le sono venuta a portare una cosa. Una sera c'è una cassetta per lei. È pronto? Allora, guardate un po' che cosa abbiamo trovato. Hai inteso di mettersi in comunicazione con i mondi di lei? Perché da questa parte... Riconosce qualcuno? Chi è sto ragazzo? Luigi, Luigi Stecca lo chiamavamo, Luigi Stecca. Sono il professor Pasquale Duomo, il grande professore fa l'intervista. Arrivederci alla prossima puntata. Grazie a tutti.